Ciao a tutti e bentornati oggi voglio proporvi una ricetta semplice e sfiziosa tartufini al cioccolato che vi serviranno per accompagnare un buon caffè o condividere un momento con i vostri amici per la preparazione di questa ricetta abbiamo bisogno di 200 grammi di cioccolato fondente che io ho già sciolto a bagnomaria 100 grammi di biscotti secchi tritati finemente 20 grammi di cacao amaro 20 grammi di zucchero a velo 200 ml di panna un pizzico di sale e 10 grammi di rum per la guarnizione finale abbiamo bisogno di polvere di cocco mandorle nocciole o pistacchi che io precedentemente ho tritato finamente andiamo con la preparazione iniziamo la preparazione versando il nostro cioccolato fondente sciolto a bagnomaria in una burra aggiungiamo la panna che ho fatto scaldare un po nel microonde e amalgamiamo il tutto aggiungiamo il pizzico di sale 20 grammi di zucchero a velo il cacao amaro continuiamo a mescolare miscelato il tutto aggiungiamo i nostri biscotti e per ultimo aromatizziamo con 10 ml di rum o amaretto o usate un liquore a vostro gusto miscelato bene il tutto mettiamo il nostro composto in frigorifero a rassodare passato in paio d'ore il nostro composto ha preso consistenza ed è facilmente lavorabile facciamo delle piccole sfere con le mani lo inseriamo all'interno delle nostre guarnizioni in questo caso nocciola facciamo tipo un'impanatura nella guarnizione e il nostro tartufino è pronto fatto i nostri tartufi al cioccolato sono pronti buona degustazione a tutti alla prossima ricetta ciao